Sembrava un'impresa disperata, ma il Pescara la fa diventare realtà. C'è ancora vita per i biancazzurri che soffiano ai calci di rigore, gara 3 ad una luparenza che già assaporava il sesto scudetto. Prestazione indomabile per i ragazzi di Fulvio Colini, ancora squalificato, ma capace di trovare degli aggiustamenti tattici che hanno sparigliato la partita e sorpreso il quintetto di casa. Da subito il Pescara ha giocato con la carta di Cimanghigno, portiere di movimento, una tattica che ad un certo punto ha convinto anche la squadra di casa ad adottarla quando il possesso era della luparenze. In pratica per quasi tutta la gara o l'una o l'altra squadra hanno avuto il portiere di movimento. Altro fattore, i recuperi di Leggero e Salas, che seppur non al massimo hanno stretto i denti, sono scesi in campo e hanno allungato le rotazioni, importante peraltro la prova del paraguaiano. Gara sbloccata al dodicesimo col tocco sotto misura di Cimanghigno, vantaggio che dura un minuto, il pari è griffato da Coco Wellington con un morbido pallonetto. A un minuto dall'intervallo il Pescara ruba palla e Mati Rosa infila la porta incustodita per l'1-2 con cui si va al riposo. Nel secondo tempo i biancazzurri tentano due volte l'allungo, accelerazione al secondo del ciolito Salas, perfetto assist per l'1-3 di Cimanghigno. Un minuto dopo conclusione sporca di Mancuso, corretta con il tacco da Brandi, 2-3. Capozzo è protagonista, superbo tra i pali, trova anche la via della rete del 2-4 con un rinvio chirurgico. Ma il Pescara accusa un po' di stanchezza e i padroni di casa insistono con la loro pressione e col portiere di movimento. A cavallo di metà ripresa c'è la rimonta con la girata di Coco, quindi con il destro fulminante di Mancuso. Il Pescara però tiene botta, fa dei correttivi difensivi contro la superiorità numerica e spinge la gara fino ai calci di rigore. L'errore decisivo è di Mancuso che spara altissimo. Pescara non sbaglia mai ed il rigore che chiude la partita è del giovane Tenderini. La serie Scudetto dunque resta aperta, mercoledì 14, gara 4 in campo neutro, causa squalifica del campo pescarese.